Ciao a tutti! Ciao a tutti Dindy! Benvenuti in questo nuovissimo video! Diamo tanti bacini, anche i curicini! Tanti bacini, tanti i curicini vi mandiamo ragazzi! Ecco! Chi sei? Erika! E lei è la mia sorella Vanessa! Allora facciamo così! Da questo video Vanessa si dovrà presentare da sola! Tu chi sei? Per me! E tu? Erika! E dove andiamo oggi? Fare shopping per Natale! Contente? Per Natale! Per Natale! Partiamo! Dai su 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 veloce veloce veloce! Erika ma cosa stai guardando? Bella Bella! Wow che bella Rena! Guardate ragazzi! Ma la Vanessa dov'è? Con Papi! Ah si! Andateli con Papi! E guarda questo Babbo Natale bello! Wow che carino! Quello è più piccolo di Vanessa! Guarda che pancia grande ha questo Babbo Natale! Ha mangiato troppo! Dolce! Dolce! Di sicuro ha mangiato troppo! Wow! 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 Guardate come se faccia così! Wow! E la neve! Ma ci sono tantissime! Ma questo! Quello cos'è? E' sempre Babbo Natale! C'è anche il trenino ogni solito! Babbo Natale! Guarda! Questa è una posta! Si guarda! Cosa c'è scritto? Santa Mile! Oh! Lo sai cos'è? Tipo potrai mettere la tua letterina! No! Qua metti la letterina! Eh si! Da qui metti la letterina! Cosa ti dici di prenderla e di lasciarla fuori? Metteremo le vostre letterine lì dentro! E poi! Forse Babbo Natale passerà e li prenderà! O arriveranno tutto da lui! Si! Mamma! Dimmi! Ma le palline che colori dobbiamo prendere? Questa! Il albero lo faremo tutto rosso! Va bene! Significa che dovremo trovare le palline rosse! Guardate! Guardate questa! Brillante! Wow! Coricino! No! Quella no! Ma ci sono tantissime qua! Wow! Faremo fatica! Vanessa! Erika! Faremo fatica a prendere! Io vado a cercare delle palline rosse! Vado a cercare delle palline rosse! Eccoli! C'è Babbo Natale che va con la macchina! Mamma! La rena! L'albero! No! Se non mi sbaglio così si chiama! Quella pallina! Guarda! Ha disegnato tutti gli alberi! E anche le rene! La slitta di Babbo Natale! Fammela vedere! Guardala qua! Oh oh oh! Guarda che carina! E qua c'è la neve! A me guarda questa! Dov'è la Vanessa? Oddio! Erika! Non vedo la Vanessa! Dov'è andata la Vanessa? Un minuto era lì! Dov'è? Erika! Dov'è? Dov'è? Meno male! Ehi! Borataro fa male la pancia! Cosa? Borataro fa male la pancia! Le fa male la pancia! Le fa male la pancia! Perché dici così? È mangiato del caramello! Ha mangiato troppo! Dobbiamo comprare questo! Oh! Che carino! Dobbiamo comprare questo! Allora! Per appenderlo! Sì! Se appende! Sì sì sì! Mettilo lì! Ma questo non si deve apprendere! No! Questo non ci serve! Anche questo è molto carino! Anche questo è molto carino! Manchiamolo qui! Anche l'altro! Quello qui sopra! Ragazzi! Ecco! Lì sono le luci! Andiamo a scegliere! Andiamo qua! Andiamo qua! Dico qua! Il reparto! Luce! Mamma mia! Ma ci sono tantissime! Oh oh! Oh oh! Adesso c'è un calorino! Questi ci servono! Allora! Guardiamo lì sopra! Questi ci servono! Allora! Ma ci sono tantissime! Questi no! Questi no! Guarda questi! No! Allora noi ci servono! Sono le luci! Questi! Quale? Tipo questi? Sì! Sì! Sono molto carini! Perché noi a casa lo sapete che abbiamo i luci colorati ma non mi piacciono più! Dobbiamo prendere questi gialli luci tipo... Oh eccole! Sono qua! Tipo... Eccole sono qua! Allora vediamo 30! Dove è 30? 30? Dobbiamo trovare il numero 30! Eh... Ma dov'è 30? 30? 30? Qua... 50? 29? No! Questi sono bianchi! Patena? 30 dovrà essere qua ma non c'è niente! Ecco è questa! Lei... Sì! E questa! Eccola qua! Chi prende il carello? Io no! Io no! Allora tocca a me a prenderlo! Sì! Va bene! Andiamo! Guardate l'albero! Molto molto bello! Tutto azzurro! Grigio! Ecco! Trovate le paline rosse! Metterli lì dentro! Brava! Adesso cosa prenderemo? Cosa? Io mi prendo questa! Ma guardate questi che carini! Ma veramente... No! A noi servirà uno rosso! Perché quest'anno... Adobbiamo la casa tuta! Tuta di rosso! Colore rosso! Guarda mamma! Io mi voglio prendere la casa! Ah sì? Ti piace tanto! Voglio dormire con lui! Vuoi dormire con lui! La Vanessa è già andata! Persa da qualche parte! Lo sai? Andiamo a cercarla! Ai ai ai! Andiamo a cercare la Vanessa! Eccola è lì! L'ho vista? No! Vieni Erika! Guarda anche questi gnomi! C'è qua un reparto tutto tutto per i gnomi! Sono questi bianchi! Sono grigi! E sono anche quelli rossi! Eccoli qua! Anche questi rossi! Sono molto molto belli! Erika! Guarda lì sopra! Tipo le giostre! Guarda che carina! E dopo c'è questa! Sono i bimbi che stanno patinando lì! Sì! Questo è Papo Natale! E qua! Sì! C'è Papo Natale! Ecco qua! Comprano farina! E guarda qua! I bimbi stanno sciando! Sì! 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 Wow! Ma questa! Tipo un villaggio! Ci sono le case! E i bimbi si divertono con la slitta! E guarda qua! L'albero di Natale! Quasi brillante! Così? Sì! Quello! Erika! E qua! Cosa stanno preparando? Oh! Anche quello! Guardate! Ecco qua! Le palline rosse! C'è tutte rosse! Che carine queste! Erika! Ma guarda queste! Che carine! Erika! Che carine! Wow! Ti piacciono? Guarda questa! Tipo una caramella! Esatto! Anche questa! E qua ci sono tutte quelle piccoline rosse! Senta! Senta! Quale ti piace? Questo tutto! Quelle! Prendi tutte quelle tre! Ma cosa ti dici di prendere? Una così! Un'altra! Guarda! Con la rena! Oddio! Tocchiamo qua! Guarda che morbida! Ma la mia mano brilla! Ecco! Ma siamo tutte un po' così! Le mani brillanti! Perché il mio vestito brilla! Anche la felpa! Guarda la tua felpa! Stai brillando tutta! Guarda! Questi sono anche i fiori Erika! Non ti piacciono quelli? No! Ma cosa? Wow! Oddio! Mi piace! Quelle tre! Prendiamo quelle tre fagini! Anche queste! Ma non capisco quale vuoi! Guarda questa! Sì! Tipo... Questa è la neve! Di Natale! C'è la neve! Sì! Erika! Prendi una! Una così! Un'altra così! Questa! Quella! Questa! Anche quella! Stai attenta! Le prendete tutte! Sì! Quella è più bella! Molto carina! Così! Stai attenta! Quattro! 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 E visto che la signora ci ha dato delle scatoline! Sì! Per mettere le palline! Qua li mettiamo queste piccole! Non si rompono! Qua mettiamo queste piccole! Ecco! Quelle piccole lì! E... Vediamo... Anche quella? Sì! Ti piace quella? Mmm... Guarda! Anche questi non sono male! Sono molto belle! Anche queste palline! tenete lì, tieni anche questa guarda anche questa abbiamo prendiamola, prendiamola ecco, molto carina qua ci stanno due un'altra ci serve potrai prendere ancora una cosa ne dici? ancora una, scegli tu quale? ecco, questa che brilla sono alberi di Natale ok, quanti ci sono? sei? uno, due, tre quattro, cinque, sei sei palline, ok guarda questa che carina pallina c'è l'albero dentro e dopo c'è questo con un gatto rossa che carina, quella sì è molto carina prendiamola questa guarda con la reina no, ma questa è troppo verde no, direi di no queste quelle, ok e guarda qua guarda sono le scarpine sono le scarpine della reina scarpine della reina o di babbo natale? di reina dell'arena una pallina gigante e qua? mamma cosa? cosa hai trovato? mamma mia, ma quella è troppo gigante è per i lampiri grandi guarda qua c'è un gnomo con la slitta guarda che carino sì ti piace? o così così di nuovo i fiori qua cosa mi dici di prendere? due, tre a me mi piacciono ecco ce l'hai fatta? ecco qua andiamo a metterla a posto oh questo è un geletto qua oddio guarda che carina qua tipo sono i fondi è un... sì no dai Erika no quella no ma la nostra stella dell'anno scorso che color è? gialla gialla sei sicura? sì sono scurissi cosa ne dici di prendere? no, ma non rossa c'è tutto l'albero con palline rosse bianche di prendere la stella rossa direi di no no, anche giallo anche giallo? sì la stella di Babbo Natale quella prendiamola ti piace? sì se no Babbo Natale sarà molto contento dici? sì ma lo sai che dovremmo fare i biscottini per Babbo Natale? ho visto la Vanessa e chi va? eccola eccola ciao ciao no ciao ci hanno dato una scatolina ci siamo ci siamo lo sai perché? abbiamo rotto una pallina quindi? quindi niente ci hanno dato una scatola così non rompiamo più è successo non abbiamo fatto apposta lo sai Vanessa? mi hanno pulito sì ogni tanto succedono queste cose abbiamo preso tutto se non mi sbaglio sì ma dov'è il carrello? è da qualche parte lì dietro andiamo a riprenderla e anche le palline le palline prese felpe prese il video finisce qui andiamo subito a casa che dovremmo fare l'amero l'albero di Natale lo dobbiamo fare e vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato sì non vediamo l'ora nel prossimo video faremo anche l'albero di Natale restate con noi e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di mettere tanti like tanti like ciao 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 Vanessa non c'è perché è andata con papi a fare un bel giretto eh niente è vero è vero è andata con papi lei non aveva papi ciao